Intanto tutte le istanze che la cittadinanza ci aveva un pochino proposto durante la campagna elettorale e che vengono poi di fatto raccolte durante i ricevimenti, abbiamo con queste sollecitazioni da parte della cittadinanza fatto alcuni interventi. Intanto il primo, che è stato il più importante in risposta alla cittadinanza, è stata la messa in sicurezza della scuola elementare, una richiesta che veniva fatta da tempo. Abbiamo fatto un bel lavoro con le insegnanti, con i rappresentanti dei genitori e abbiamo fatto questo intervento che riguarda la messa in sicurezza della strada con dei dissuasori piuttosto che le strisce degli attraversamenti pedonali, eccetera. La cosa interessante è stato questo lavoro che abbiamo fatto con i rappresentanti dei genitori e con le insegnanti. Naturalmente c'è ancora qualcosa da fare, ma stiamo approdando alla regolamentazione del parcheggio anche per le insegnanti e questo ci dà garanzia più per l'uscita con i bambini delle scuole. Il secondo intervento invece è stato un intervento un pochino più copioso ed è in questi giorni che si sta realizzando, è l'impianto semaforico. Anche questa è stata un'esigenza che abbiamo raccolto in campagna elettorale che spesso la cittadinanza ci ha sollecitato. Un intervento che viene sintetizzato in paline semaforiche e avranno il compito sostanzialmente di regolamentare il flusso perché la via lunga è questo asse centrale della valle su cui si affaccia la via Primo Maggio e la via Sant'Antonio dove risiedono la scuola elementare da una parte e la scuola dell'infanzia dall'altra. Quindi l'impianto semaforico che si installa proprio in questo asse avrà il compito di regolamentare i flussi, naturalmente di rallentare la velocità e migliorare la pedonabilità. Questo è interessante perché il semaforo non avrà solo questi due compiti ma è stato pensato l'intervento con i raccordi per facilitare la pedonabilità. Il tema della pedonabilità è un tema per noi importante lo stiamo sviluppando per la scuola elementare e questo di fatto è stato un intervento per agevolare i bambini andare a scuola a piedi ma anche l'impianto semaforico ha questi raccordi con i marciapiedi, con gli attraversamenti pedonali. L'altro invece intervento che siamo in via di progettazione sono la messa in sicurezza delle fermate dei pullman. Sempre lungo l'asse della via lunga abbiamo queste fermate che ancora hanno bisogno di essere sistemate e di essere messe in sicurezza. Alcune di queste peraltro non sono state ancora autorizzate però abbiamo fatto una buonissima ricognizione. Stiamo lavorando sempre a tavoli congiunti per cui abbiamo messo in piedi questo studio. Si tratterà di un intervento importante di circa 120.000 euro e questo consentirà ai ragazzi di sostare alle fermate dei pullman naturalmente più in sicurezza. Questi interventi, ci tengo a precisare, abbiamo lavorato come dicevo prima con i tavoli congiunti quindi per esempio per quanto riguarda le fermate dei pullman ci siamo appoggiati naturalmente ai nostri uffici ma alla polizia locale ma anche con Sabe e con il servizio scolastico in modo da valutare su più fronti ma anche la progettazione con la scuola quindi la messa in sicurezza abbiamo lavorato con le insegnanti piuttosto che con i rappresentanti dei genitori. E questo è interessante perché è un po' il tema che a noi stava a cuore di rendere partecipi la cittadinanza.